e ci siamo ci siamo impresa radio network ciao alex dardano oggi quest'oggi ci sono io con te e salutiamo katia d'orta che tornerà prestissimo a rioccupare la postazione e amici ascoltatori di impresa radio network il contenitore dedicato alle imprese arti e professioni rappresentative del nostro territorio quest'oggi mercoledì ritroviamo la rubrica di consulenza professionale che così ci è offerta tutti i mercoledì da quality casa torino parliamo di la qualità e di casa a cura di francesco aquino ciao francesco come stai a tutti bene bene ci stiamo divertendo perché stiamo vivendo questo viaggio all'interno del mondo immobiliare quindi mi piace raccontare il mio lavoro da dietro le quinte quindi è stata è un bel viaggio che stiamo facendo è davvero bello perché ci stai prendendo per mano e conducendo in questo mondo che per molti è in me è molto difficoltoso un po ostico ma tu con grande devo dire umiltà ma estrema professionalità ci stai mostrando tutti gli aspetti di questo settore rivelandoci anche qualche segreto e questo veramente ti fa onore ricordiamo a chi si fosse perso le puntate precedenti che sono disponibili sulla nostra pagina facebook ma anche in maniera sintetica proprio sul nostro canale youtube antenna 1 e come podcast su tutte le piattaforme francesco aquino di quality casa torino oggi poi ci porta un'eccellenza nell'eccellenza possiamo proprio dirlo ci porta un esperto in trasformazioni di cambio e cambio di destinazione d'uso un professionista proprio della trasformazione abitativa parliamo di a linzaria della società reinvesto holding company srl e devo dire io ho un po di emozione quest'oggi nel presentarvelo perché lui nel 2013 era uno dei nostri piemontesi dell'anno in quanto ha portato proprio la nostra squadra di canottaggio all'oro all'oro e questo veramente è un piacere quindi medaglia d'oro ai campionati del mondo di canottaggio 2013 vogatore leggero del circolo caprera ciao alin benvenuto ciao a tutti ecco oggi sei qui con noi in un'altra veste molto più diciamo professionale istituzionale da un certo da un altro punto di vista ecco la capacità proprio di generare nuovi progetti e nuovo business sapersi rinnovare reinventarsi è una qualità un po tipicamente italiana tu non sei italiano d'adozione però l'hai appresa molto molto bene e oggi in questa tua nuova veste metti la stessa professionalità attenzione e passione che hai messo nello sport ci insegni quest'oggi che è possibile reinventarsi non solo nel mondo del lavoro ma anche per tutto ciò che concerne gli immobili possiamo pensare non solo ad una ristrutturazione ma addirittura ad un cambio di destinazione ed uso di negozi uffici laboratori capannoni e allora oggi ti chiedo la domanda proprio primaria cosa si intende con l'espressione cambio di destinazione ed uso allora il cambio destinazione ed uso è la l'utilizzo finale diciamo di un immobile quindi di conseguenza l'utilizzo che uno ne andrà a fare all'interno del proprio immobili quindi in questo caso di un negozio di un appartamento e via dicendo come ad esempio all'interno di un appartamento può essere non soltanto un'abitazione ma anche un airbnb un ufficio e quindi cambiare questo tipo di destinazione questo tipo di utilizzo significa cambiare la destinazione d'uso di un immobile in generale ok e senti posso tenere un cambio di destinazione d'uso anche non attuando delle opere che in realtà modificherebbero l'immobile assolutamente sì è possibile è possibile ovviamente non pagando più degli oneri di urbanizzazione quello che è da dire è da specificare che ovviamente l'immobile deve rispettare poi tutta una serie di requisiti in base all'utilizzo che ne andremo a fare quindi se noi abbiamo un magazzino che ha già all'interno dei servizi igienici e che quindi ha già degli spazi che possono permettere l'utilizzo abitativo di questo magazzino possiamo farlo diventare abitazione senza effettuare dei lavori solamente nel caso in cui rispetta appunto tutti questi requisiti come le dimensioni del bagno come uno spazio insomma vivibile e tutta una serie di rapporti aereo illuminanti eccetera eccetera ecco hai parlato di magazzino hai parlato di unità abitativa allora spieghiamo un attimo meglio ai nostri ascoltatori quali sono le categorie di destinazione urbanistica e che cosa significa mantenere la medesima categoria urbanistica nel cambio di destinazione d'uso allora diciamo che principalmente dal punto di vista urbanistico abbiamo quattro grosse categorie che sono quella abitativa direzionale produttiva commerciale e terziaria ovviamente poi tutte queste categorie vanno poi a loro volta a suddividersi in altre tante altre piccole categorie come appunto prima hai detto tu giustamente nell'introduzione abbiamo ad esempio un ufficio che in una categoria A e rimane può diventare un'abitazione e che rimane comunque nella categoria A per capirci e quindi di conseguenza rimane nello stesso nella stessa nella stessa categoria principale ovviamente in quel caso si possono fare ci può fare un cambio di destinazione senza opere si può utilizzare lo stesso immobile senza dover fare opere ovviamente poi premesso che rispetti poi tutta la serie di parametri che uno deve rispettare questa è un po' la questione mi piace pensare a questa possibilità di trasformare gli immobili e anche perché penso che sia importante proprio su questo ti chiedo una riflessione andare un po' a recuperare tante di quelle aree che nella nostra Torino vediamo abbandonate in qualche modo perché è importante riqualificare delle unità immobiliari e riconvertire dei locali che per il cambiamento proprio dell'economia oggi non servono più pensiamo a tutta l'area fiat mamma mia diciamo che principalmente al giorno d'oggi un po' tutta la serie di negozi commerciale eccetera non ha più la visibilità che aveva un tempo specialmente se parliamo di stradine un pochettino magari addentrata all'interno del centro torinese e quindi di conseguenza noi pensiamo che siano un pochettino più sfruttate come abitazione e quindi di conseguenza riusciamo anche appunto a riqualificare queste zone magari non avendo un decadimento di tutta una serie di immobili che non sono più utilizzati che sono abbandonati perché appunto magari i negozianti piuttosto che gli artigiani di un tempo non li utilizzano più ecco perché è importante poi soprattutto andare a risparmiare il suolo urbano come ben sappiamo il verde al giorno d'oggi è molto molto importante e quindi non solo per per una questione di temperatura non solo per una questione di in questi giorni ce ne stiamo rendendo conto ma ce ne siamo ancora più resi conto durante il lockdown perché è stato un periodo in cui le abitudini delle persone sono state sconvolte e si sono rese conto di quanto è importante avere del verde e quindi appunto come giustamente abbiamo detto uno cerca ovviamente il più possibile di non allargare sempre di più le città non facendo sempre mettendo placche di cemento ovunque mettiamola così e quindi se si riesce un pochettino anche a riqualificare quello che abbiamo già e quindi riutilizzare quello che magari al giorno d'oggi non è più utilizzato come prima ben venga ci fermiamo qualche istante consigli dalla regia torniamo prestissimo continuiamo a parlare con francesco acquino e con alien zaria di cambio di destinazione d'uso per la rubrica la qualità e di casa sul radio antenna 1 e ad impresa radio network la qualità e di casa con francesco acquino che sta curando per noi veramente passo dopo passo questa importantissima rubrica tutti i mercoledì dalle ore 15 alle ore 16 e oggi con noi anche alien zaria per parlare di cambio di destinazione d'uso un argomento che sta prendendo sempre più piede francesco vero allora sì questa è una parte anche fondamentale della nostra consulenza perché capire quello che sono le esigenze delle persone aiuta anche il cliente ad ottimizzare l'investimento quindi immaginiamo magari che ha comprato un negozio negli anni 80 90 che ha sempre affittato che comunque gli ha sempre garantito una rendita una volta si diceva no che il negozio era l'investimento l'investimento migliore perché perché comunque era sempre occupato oggi invece bisogna dire che ad esempio per il negozio proprietari dei negozi lo sanno non puoi applicare la cedolare secca che è un grosso problema per chi per chi affitta e soprattutto la limu è molto più alta rispetto agli appartamenti e adesso sono vuoti perché è cambiato il mondo è cambiato l'economia cioè oramai la vendita al dettaglio non più tardi di qualche mese fa ho sentito che hanno abbandonato il progetto di fare centro commerciale davanti al all'aeroporto di caselle cioè c'era quest'idea di fare questo centro commerciale sembra che stiano cambiando progetto perché anche i centri commerciali cominciano a a battire un pochettino questo questo cambio ci stiamo sempre più spostando verso l'online purtroppo e quindi purtroppo perché si riferdono un po i rapporti umani assolutamente la consulenza anche con con il negoziante quando va a comprare qualcosa cioè quella quella mancherà però d'altronde dobbiamo fare conto con con questo e quindi dicevamo appunto che adesso cominciamo a vedere qualche negozio trasformato in appartamento cosa che fino a cinque anni fa era praticamente impensabile no quindi non te l'immaginavi tra l'altro con con la reinvesto collaboriamo molto perché sappiamo innanzitutto quali sono le esigenze dei clienti quando facciamo cambio destinazione d'uso ma il più delle volte quando si parte con una rivendita di un negozio comunque con un progetto di un negozio per cercare di personalizzare loro se loro si affidano molto a dei render no quindi creano delle immagini virtuali su come viene diciamo il prodotto finito in modo perché immaginatevi un cliente che entra in un negozio non se l'immagina proprio un appartamento magari appunto accompagnati con delle immagini 3d riusciamo a fargli vedere quindi non capire ma proprio vedere il lavoro finito e poi possono anche personalizzare negli ultimi anni abbiamo chiuso diverse diverse collaborazioni quindi negozi diventati appartamento e devo dire che anche andata molto bene perché una tipologia di mercato adesso che che sta funzionando una tipologia d'appartamento un po particolare rispetto al classico ingresso tinello cucini una camera bagno c'è molto apprezzato dai giovani ma sì anche perché così hanno modo di mostrare un appartamento molto originale ma quando è consentito il cambio di destinazione d'uso beh allora il cambio destinazione d'uso diciamo che prima di effettuare un cambio destinazione d'uso in generale bisogna fare una serie di valutazioni ovviamente solitamente prima cosa bisogna rivolgersi a un professionista che può essere un architetto o che può essere appunto un tecnico in modo da capire se rispetta come dicevamo poc'anzi tutti i vari parametri di quel di quel tipo di cambio e poi successivamente iniziare a fare tutta una serie di indagini sia a livello comunale che a livello catastale motivo per il quale solitamente noi sconsigliamo di non rivolgersi appunto a dei professionisti insomma ovviamente il professionista sa sia dove andare a cercare sa anche come 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 andare a cercare insomma tant'è che anche noi stessi abbiamo dei professionisti abbiamo architetti appunto che che ci aiutano nel quotidiano a risolvere e a trovare le metodologie del cambio di destinazione d'uso anche perché è un mondo talmente vario che è impossibile avere diciamo dei paletti che rispettino tutto quello che uno va a fare quindi di volta in volta ovviamente uno deve cercare di capire quali sono le cose le cose da fare insomma forse un po più semplice il cambio di destinazione all'interno della stessa categoria come dicevamo appunto poco fa se uno fa un cambio di destinazione all'interno della stessa categoria senza opere appunto aggiuntive ovviamente è un pochettino più semplice però come come sempre necessita anche quello poi di un riaccattastamento necessita comunque anche quello di una rivalutazione di una serie di parametri e quindi di conseguenza anche in quel caso bisogna comunque rivolgersi a qualcuno che sa quello che deve fare Aline Francesco entriamo proprio nel tecnico così spaventiamo i nostri ascoltatori o li rassicuriamo ecco devo presentare una pratica edilizia quindi abbiamo detto che bisogna rivolgersi comunque ad un professionista ingegnere architetto geometra adesso poi facciamo un po' di chiarezza ma cosa presento? una dia, una scia, una cila io ho letto nomi e sigle che mamma mia mi spaventano solitamente per un cambio di destinazione si presenta una scia in alternativa che vuol dire in alternativa al permesso di costruire la scia come il nome stesso lo dice è una segnalazione certificata di inizio attività e come la parola stessa lo dice appunto segnalazione certificata vuol dire che viene certificata da un professionista che in questo caso può essere il tuo architetto o chi segue la pratica per te e in alternativa perché appunto non necessita di un permesso a costruire perché appunto non viene analizzato dalla commissione che solitamente ti autorizza il permesso di costruire nuove strutture ma basta presentare appunto questa scia e nei passati 30 giorni silenzio assenso nel senso dove il comune ovviamente ha la possibilità di chiederti tutta una serie di integrazioni che possono riguardare appunto magari l'isolamento piuttosto che l'acustica eccetera eccetera passati questi 30 giorni dovrebbero arrivarti gli oneri che uno dovrebbe andare a pagare e successivamente puoi iniziare appunto i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'immobile ecco ecco dopo la pratica urbanistica è necessario anche aprire o presentare una pratica al catasto? diciamo che le due cose vanno di pari passo quindi una volta che uno ha eseguito i lavori ha ultimato i lavori prima di presentare la fine dei lavori in comune bisogna presentare una pratica in catasto dove si rappresenta la nuova distribuzione dell'immobile e ovviamente anche la nuova categoria catastale che l'immobile andrà poi ad acquisire ecco e qua cambia la categoria, cambia la rendita, ci troviamo magari un cambio di tasse sì abbiamo, oltre agli architetti diciamo ci sono anche tante altre figure che spesso entrano in gioco è capitato a Torino ad esempio a tanti corsi d'acqua e in alcuni casi il comune chiede il geologo per evitare appunto che ci possano essere problemi quindi magari il livello del fiume in caso di esondazione quindi un geologo deve fare una richiesta oppure l'acustico perché comunque trasformare un appartamento significa in discoteca magari significa anche evitare di appunto di creare un locale che può essere molesto da rumori delle macchine quindi ci sono una serie di certificazioni che sono molto stringenti quindi però chi è un professionista riesce a superarle senza problemi e per quel motivo che probabilmente il classico fai da te in questi casi è assolutamente sconsigliato quindi magari se uno ha un negozio, un laboratorio che lì non riesce ad affittarlo perché per le problematiche abbiamo detto prima rivolgersi alla società come l'area investe può essere utile perché comunque hanno le competenze innanzitutto per dire se quella trasformazione ha senso perché abbiamo notato tra l'altro penso che lì lo può confermare che in base anche alle zone di Torino cambia anche il concetto abitativo cioè una zona universitaria chiede un tipo di abitazione di un certo tipo la zona periferica ne chiede un'altra quindi non è sempre detto che dal punto di vista commerciale la trasformazione fa sì che quell'immobile possa essere appetibile sul mercato quindi la prima valutazione da fare è vedere un attimino dove siamo che cosa creiamo e poi ci vogliono tutte le competenze per far sì che chi decide di fare questa cosa non ha sorprese e si rivolga comunque a professionisti che lo fanno che sono abituati a farlo ma sono pratiche che costano molto? diciamo che dipende un po' da caso a caso è un po' come se tu entrassi in un concessionario e dici se voglio comprare un'auto quanto mi costa? dipende ovviamente da che tipo di intervento uno voglia fare da quanto è grosso questo intervento e dipende come appunto giusto prima diceva Francesco da quanti professionisti dovranno intervenire in questo cambio perché se vai a parlare di termotecnico, acustico, geologo eccetera eccetera ovviamente poi diventa tutto un pochettino più oneroso e anche da parte del comune gli oneri di urbanizzazione dipendono sempre ovviamente da zona a zona e dipende anche da che categoria, in che categoria passi e quindi è tutto un po' una variante diciamo ecco Prima hai parlato del comune che interviene può chiedere delle integrazioni e delle specifiche e il comune che poi alla fine dà il bene placito è una pratica che può avere dei tempi molto lunghi? Allora solitamente i tempi sono come dicevo prima uno presenta la pratica passati i 30 giorni solitamente se arrivano gli oneri e non ci sono ulteriori richieste da parte del comune quindi uno è stato così bravo da aver presentato tutto quello che necessitava la regola d'arte esatto come il nostro architetto quindi di conseguenza poi passati questi 30 giorni arrivano gli oneri e uno può iniziare poi ovviamente ci sono tutti i vari tempi della ristrutturazione di tutti i lavori che uno deve fare all'interno e successivamente si dà alla fine lavori eccetera eccetera Devo dire che hai detto bene Francesco c'è molta curiosità perché io ho raccolto tantissime domande da parte un po' di ascoltatori conoscenti c'è molta curiosità su questo tema ne continuiamo a parlare qui ad Impresa Radio Network nella rubrica la qualità è di casa cura di Francesco Aquino per Quality Casa Torino ed è con noi a Linza Ariea Reinvesto Holding Company restate con noi e dopo la bella musica di Radio Antenna 1 torniamo ad Impresa Radio Network con la rubrica la qualità è di casa a cura di Francesco Aquino di Quality Casa Torino che ricordiamo in via Rossini 21 Francesco diamo il numero telefonico perché poi me lo chiedono dopo e tu non ci sei più il nostro numero è difficilissimo perché è 011 393 000 è un numero guai a chi non lo ricorda esatto facile da ricordare se me lo ricordo io con una memoria breve termine tipo Dori del personaggio di Nemo vuol dire che è facile da ricordare ecco e poi chiamate anche solo per fare due chiacchiere con Francesco perché la sua simpatia è proverbiale ma anche sì anche per scherzo effettivamente no è anche per chi ha curiosità nel senso che noi alcuni magari appunto sono solo curiosi di vedere anche queste cose perché questo secondo me è un argomento molto interessante e soprattutto bisogna vedere determinate cose adesso Google Street View permette di vedere dal 2008 a oggi qual è stato il cambiamento di una facciata quindi se vedete delle facciate che sono diventate delle finestre andate dietro e andate le vetrine e già quello quindi è una bella differenza di come sta cambiando quindi se avete delle curiosità venite a trovarci in studio e assolutamente possiamo parlarne bene a proposito stiamo continuando appunto lo ricordiamo ai nostri ascoltatori stiamo continuando a parlare di cambio di destinazione ed uso degli immobili e mi chiedo ma si può fare anche un cambio parziale? sì è possibile ovviamente come dicevamo prima se lo spazio lo permette quindi ad esempio se abbiamo un magazzino di 100 metri quadri uno magari nella parte frontale vuole continuare a utilizzarlo come magazzino laboratorio e la parte dietro vuole trasformarla in abitazione si può fare ovviamente non voglio essere ripetitivo ma deve rispettare tutta una serie di di criteri che uno poi dovrà andare a verificare ecco e a proposito di questi criteri perché c'è chi dice insomma mi aggiusto in qualche modo due mattoni e cambio tutto ma gli impianti devono avere rigorosamente il certificato di conformità? assolutamente sì altrimenti non si può dare un fine lavori tant'è che anche i nostri professionisti tutte le volte che devono chiudere le pratiche hanno bisogno di schemi degli impianti e tutta la serie di certificazioni degli impianti e di tutto quello che si è andato a mettere come gli isolamenti come le finestre nuove quindi trasmittanze termiche eccetera eccetera ma il comune poi viene a fare i controlli anche le pulci capita anche questo capita anche questo diciamo come prima dicevamo ovviamente il tecnico è responsabile di quello che dichiara quindi in prima persona i professionisti sono responsabili di quello che dichiarano quindi se dovessero dichiarare il falso sono i primi ad essere responsabili ciò non vuol dire che il comitente il proprietario non ne risponde e quindi di conseguenza quando loro dichiarano che è stato fatto un tipo di intervento con determinati materiali con determinati criteri di lavoro ovviamente se ne assume le responsabilità e il comune può assolutamente venire a controllare e verificare le pratiche e appunto ogni tanto capita e in quel caso se dovessero esserci delle difformità ci sono insomma non è proprio piacevole diciamo come sempre possono essere date delle sanzioni possono essere date anche delle sanzioni comunque devi poi fare una sanatoria insomma vai a inserirti poi in tutta una serie di problematiche che a nostro avviso è molto meglio evitare semplicemente facendo i passaggi giusti senza cercare appunto di fare i furbetti diciamola così ecco parliamo dei furbetti invece adesso giochiamo ma serve a fare luce se qualcuno ha già fatto una trasformazione abusiva ha modo di regolarizzarla di sanare dipende sempre ovviamente dal tipo di interventi che sono stati fatti ma in linea di massima sì si può fare una sanatoria ricordiamo sempre che una sanatoria è un'autodenuncia e quindi di conseguenza comporta poi tutta tutta una serie di sanzioni tutta una serie di integrazioni eccetera eccetera ovviamente la sanatoria vuol dire che finita questa presentazione eccetera l'immobile deve essere esattamente come uno dichiara che è in quello stato lì nella speranza che ha poi fatto i lavori con i parametri cioè il bagno deve avere una determinata superficie al metro quadro calpestabile le stanze pure le dimensioni cioè quindi perché non si può sanare se il bagno è di una misura inferiore rispetto a quello che il comune permette quindi prima di fare lavori è sempre meglio altrimenti deve ovviamente mettere di nuovo mano demolire tutto e rifare tutto quindi demolire tutto quindi prima di far chiedere una sanatoria piuttosto il comune ovviamente se uno sana come la parola stessa lo dice deve assolutamente rispettare tutti quei parametri che la gente quando fa un cambio di destinazione va a rispettare quindi di conseguenza è tutta una serie di cose che uno deve fare ma c'è anche il dettaglio che avevamo toccato con l'architetto non una volta diciamo qualcuno faceva solo la pratica catastale quindi al catastro si modificava la destinazione d'uso passava da a 10 a da 3 quindi non è sufficiente quello abbiamo ad esempio visto con l'architetto che l'urbanistica del comune è fondamentale quindi quando arrivano degli appartamenti verifichiamo che c'è stato un cambio di destinazione d'uso tramite una visura storica quindi che magari da magazzino ufficio è passato da appartamento la cosa che dobbiamo verificare è se quel passaggio c'è stato anche in comune perché se non c'è stato in comune in realtà quel passaggio non è legittimo e quindi va fatta tutta la pratica quindi il comune è fondamentale capita spesso purtroppo ripeto magari un po' di tempo fa era un'abitudine che i proprietari facessero solo un cambio in catastro come ha detto prima Lino il catastro si fa alla fine finito i lavori il comune approvato abbiamo chiuso certificazione degli impianti presentiamo alla fine il lavoro in comune dove diciamo abbiamo finito di fare il nostro intervento automaticamente si può si può cadastrare ok facciamo qualche esempio ho un C6 vediamo se sono preparati sto giocando un garage un garage molto grande magari un garage doppio ma non lo utilizzo vorrei farmi fare che so per il mio ragazzo il mio il mio bambino un alloggetto posso farlo? in questo caso no perché il garage non costituisce cubatura e quindi di conseguenza quando hanno costruito inizialmente il palazzo la struttura quello che è il garage non fa parte dell'SLP quindi di quello che potevano costruire come abitazione e quindi di conseguenza non si può trasformare in abitazione ok invece se ho invece un immobile accatastrato come C2 posso ottenere l'abitabilità? se si fanno i lavori sì in C2 ovviamente non per utilizzarlo come abitazione c'è anche da dire che l'abitabilità solitamente viene richiesta quando vengono fatti degli interventi un pochettino più corposi quindi o su tutta la struttura o una nuova costruzione o vengono modificati dei diciamo dei muri che sono portanti eccetera eccetera solitamente l'abitabilità non può essere data parziale quindi di conseguenza se io ho un negozio al piano terra tutto l'immobile è un immobile tutto il palazzo è un palazzo del 1900 e non ha l'abitabilità io non posso chiedere l'abitabilità solamente per quel negozio bisogna andare a riguardare tutta tutta una serie di come appunto la scala come è stata fatta tutti i progetti eccetera eccetera la strutturale eccetera e una volta verificato questo si può dare l'abitabilità dell'intero palazzo dell'intera struttura vedo Francesco pronto a dire qualcosa perché l'abitabilità è un argomento molto delicato ci richiede un'altra tradizione infatti abbiamo non abbiamo toccato neanche l'argomento con l'architetto perché in realtà è quella cosa indefinita l'abitabilità a livello condominiale quindi una casa costruita negli anni 70 riceve un'abitabilità perché aveva i requisiti negli anni 70 per poter appunto avere l'abitabilità non sempre c'è però la casa si può commercializzare lo stesso diversa da quelle che sono quelle case costruite nel 2022 parliamo anche solo delle barriere architettoniche ci sono delle esigenze diverse quindi avere l'abitabilità vuol dire che ho un pezzo di carta in comune che dice che la casa è abitabile ma in realtà se non c'è quella abitabilità non è che la casa non è abitabile la casa nel caso del campo destinazione d'uso non è abitabile se non ho dei requisiti minimi che rispetto quindi ad esempio la superficie del monolocale deve essere calpestabile 28 metri quadrati se 27 metri quadrati non ci puoi abitare indipendentemente da quel certificato cioè non puoi andare ad abitare non puoi essere abitativo quella casa mamma mia quante domande che chiamano domande ci fermiamo qualche istante impresa radio network dove la qualità è di casa ad impresa radio network la qualità è di casa a cura di francesco acquino di quality casa torino via rossini 21 torino e con noi anche aline zaria per reinvesto holding company che è un proprio un esperto una società esperta di chiamiamo riqualificazioni di immobili e trasformazioni stiamo parlando proprio di trasformazione della destinazione d'uso di un immobile io so che avete curato diversi interventi e in questo momento c'è uno piuttosto prestigioso mi raccontate che cosa sta accadendo in via Garibaldi perché siamo praticamente alle spalle di piazza castello quindi questo è un bellissimo intervento quindi appunto se qualcuno vuole venire a dare un'occhiata si può rendere conto perché oggi un cantiere è ancora ancora aperto e quindi possiamo toccare con mano assolutamente si poi entra in cantiere può vedere il prima perché siamo al primo e poi vedrà il dopo perché stiamo preparando anche dei render e lì ci puoi spiegare perché vengono fuori quattro unità perché è una bella struttura esatto lì vengono fuori quattro unità immobiliari come ha detto Francesco tutte le unità immobiliari tranne una preciso tranne una hanno uno sbocco fuori come poco fa dicevamo che è molto difficile da trovare all'interno di essendo così centrali vicino appunto a piazza castello è difficile trovare uno sbocco fuori o comunque un terrazzo e quindi queste unità immobiliari avranno dei terrazzi dei giardinetti dei piccoli spazietti fuori e quindi poi si cercherà ovviamente di farli il più belli possibile ecco vista anche la zona visto anche prestigiosa sicuramente il prestigio della zona quindi anche essendo un interno cortile alla fine è anche molto silenzioso nonostante ci sia tanto passaggio appunto in via Garibaldi nonostante ci sia magari anche un po' qualche localino qualche bar lì vicino ovviamente essendo all'interno del cortile è molto tranquillo ecco cosa avevamo prima lì in quel punto c'era un locale notturno inizialmente era una sala da ballo e poi è diventato negli anni è stata cambiata molte volte la destinazione d'uso ma proprio l'utilizzo di questo immobile negli ultimi anni era diventato un locale notturno e quindi di conseguenza creava anche a volte spesso del disagio ai condomini che c'erano all'interno di quel condominio come dicevamo all'inizio appunto in questo caso facendo un cambio di destinazione abbiamo anche migliorato insomma la vita possiamo dire ai vicini ecco se ci sopportano per i lavori che stiamo facendo perché sicuramente ovviamente non saranno contenti ma oggi tra l'altro il futuro acquirente potrà proprio personalizzare l'immobile quindi è proprio che bello mettere in mano direttamente alla propria casa poi appunto via Garibaldi è una delle vie più conosciute e più importanti del centro di Torino quindi comunque è come comprare un pezzettino della città quindi già un investimento ottimo e oggi può anche scegliersi i materiali anche magari nel limite del possibile perché magari l'architetto Valenza adesso ci sta ascoltando e dice non promettete cose perché ovviamente nella vendita la gente immobiliare è un sì continuo poi quando vado dall'architetto e dico senti ma il mio cliente ha proposto di fare determinate cose lo vedi che diventa rosso lo dico aspetta un attimo probabilmente devo quindi però dai qualche piccola personalizzazione ancora si può fare quindi se alzare un muro tirare giù un muro fino a che non lo crea l'impresa te la puoi cucire addosso questa casa che meraviglia ma quindi questa è una palazzina che è a sé è un basso fabbricato all'interno del cortile sì esatto è sviluppato su due piani quindi c'è un appartamento al primo piano e altri tre appartamenti ai piani terra ecco ma un alloggio realizzato da un cambio di destinazione d'uso può avere un prezzo più concorrenziale sul mercato? sì diciamo che questo chiediamo all'esperto in alcuni casi sì dipende dal dal tipo di intervento che abbiamo fatto anche dall'esclusività ma ad oggi secondo me si compra meglio perché il cambio di destinazione d'uso riguarda principalmente appartamenti al piano terra quindi commercialmente ovviamente i piani terra hanno un valore minore rispetto agli appartamenti al primo piano e ai piani più alti quindi partiamo già da quel presupposto che ci mettiamo su una fascia di un appartamento un pochettino più più economico e quindi in alcuni casi rispetto al classico appartamento sì poi se è logico che abbiamo magari riescono a creare dei bellissimi loft due livelli con soppalchi con spazi molto aperti vetrate c'è abitazioni proprio particolari non canonici allora puoi anche venderla ad un prezzo leggermente superiore rispetto al suo concorrente tinello camera e cucina al piano terra ecco perché già solo l'idea del soppalco dei 6 metri di altezza 4 metri finestre luminose danno Francesco tu parli e io e i nostri ascoltatori sogniamo no perché è un bel abitare alcune sono proprio molto molto carine su quelle classiche case che vedi in copertina che vedi sulle riviste di ristrutturazione e poi vederla dal vivo alcuni si innamorano cioè facciamo degli appuntamenti entrano e rimangono veramente folgorati vederlo prima non dà quell'emozione perché comunque vedi adesso se qualche nostro ascoltatore vuole venire a trovarci sul cantiere di via Garibaldi vede tante macerie non si innamora sicuramente vede tante macerie vede un cantiere probabilmente tra qualche mese quando cominciamo già quando cominceranno già a tirare sui muri eccetera è tutta un'altra un'altra cosa ma visto che centro storico è stato necessario chiedere il permesso di costruire no vale sempre quello che dicevamo prima non cambia anche se c'è appunto una zona particolare ovviamente se il condominio è sotto le belle arti bisogna comunicare fare la comunicazione non solo al comune ma anche alle belle arti che devono dare il loro benestare ovviamente e quello poi anche in fase di atto e di vendita come Francesco ci può confermare bisogna anche avere il benestare delle belle arti perché hanno il diritto di prelazione a proposito di condominio che è sempre un tema dolente se appunto questa unità immobiliare si trova all'interno di un condominio e vogliamo cambiare la destinazione d'uso si può opporre il condominio? allora diciamo che anche qua si aprono un po' di parentesi principalmente se sul regolamento di condominio non c'è non c'è un divieto espressamente proprio scritto non possono opporsi al cambio di destinazione è ovvio che se tu nel cambio di destinazione vai a ritoccare delle parti comuni quindi la vetrina diventa finestra come dicevamo una porta apriamo una porta sulle scale vai a toccare dei muri magari portanti eccetera eccetera ovviamente devi chiedere il permesso al condominio perché vai anche tra virgolette intaccare quello che sono le parti comuni se tu non vai a toccare tutte queste parti qua è come fare una ristrutturazione a casa propria non necessita dell'autorizzazione di nessuno ripeto a meno che non ci sia un divieto scritto sul regolamento di condominio ok quindi se voglio presentare questa cosa devo però passare dall'assemblea si ripeto dipende dal tipo di intervento che uno voglia fare perché se uno all'interno della propria casa non c'è scritto ad esempio come dicevamo prima vuole far diventare un appartamento un ufficio non fa dei lavori non va a modificare delle parti comuni ovviamente non deve chiedere niente a nessuno diventa da abitazione ufficio e va bene così a meno che non venga scritto sul regolamento di condominio che non possono esserci uffici all'interno del condominio in un condominio il signor No lo troviamo sempre quello è vero presente a tutte le riunioni c'è c'è il signor No e fa parte anche quando manca ti dispiace anche perché perché poi va a toccare ad indagare a tirare fuori di solito di solito è informata ha sentito un parente fare una volta quindi c'è c'è quel personaggio lì Francesco Alin siamo giunti al termine di questa interessantissima puntata devo dire che mi è piaciuta davvero molto avevi ragione Francesco è un tema che così sta incuriosendo e sul quale veramente c'è proprio da pensare prima nel fuori onda abbiamo fatto ancora qualche precisazione lo diciamo anche i nostri ascoltatori e poi non tocchiamo più questo tema agibilità o abitabilità sono la stessa cosa quindi come nomenclatura dicevo viene utilizzato magari agibilità più per i magazzini e box out abitabilità proprio per la casa però comunque è una questione di nomenclatura fa parte della stessa grossa famiglia bene prossima settimana ci prepariamo ai quesiti degli ascoltatori assolutamente sì quindi ho il mio esame quindi di maturità visto che oggi in questi giorni c'è la prova ad esame quindi abbiamo l'esame di maturità dell'agente immobiliare quindi grazie ad Alin Zaria per la partecipazione grazie Francesco Aquino ad entrambi per la vostra professionalità l'appuntamento con la qualità e di casa torna al prossimo mercoledì sempre all'interno di impresa radio network voglio solo ricordare ancora insieme a Francesco i recapiti per contattare quali di casa a Torino sì allora noi siamo in via Rossini 21 zona Vanchiglia quindi vicino al ponte Rossini e il numero di telefono è 011 393 000 grazie Francesco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.